una signora disperata telefona all'associazione aiuto donna pronto volevo solo dirvi che ho sbagliato tutto nella vita ho sbagliato a lasciare il mio primo fidanzato ho sbagliato a sposare mio marito ho sbagliato a fare dei figli e ho sbagliato a lasciare il lavoro e mi scusi signor me sa che ho sbagliato anche il numero perché questo è il macellaio se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis